Ciao ragazzi, voglio fare questa direttina sorpresa perché vi voglio parlare di un argomento molto interessante, non so se state mangiando o se qualcuno si libererà, qualcuno riesce a connettersi, ma nel peggiore delle ipotesi poi io lo condividerò sulle varie pagine e ve lo andrete a vedere quando avete tempo. Allora, nel frattempo ieri sera c'è stata l'ultima diretta della rubrica prima di cena per cosa riguarda i cani da guardia e sicurezza, poi ce ne sarà ancora una mercoledì per cosa riguarda la cinofilia naturale e una venerdì per i cani antilupo, poi chiudiamo con questa rubrica, magari riprenderemo poi a settembre. Però, cosa vi voglio far vedere io adesso in questo momento? Beh, ciao Katia, vedo che qualcuno inizia a connettersi. Sono appunto a Kiekemen e la femmina che io vi ho messo insieme e li voglio aprire un attimo. Ecco, vi voglio far vedere questa cosa. Allora, voi ve lo ricordate a Kiekemen quando io l'avevo preso, no? Che praticamente faceva nei miei confronti, vabbè, a parte all'inizio, no? Che era un... che abbiamo avuto tutti i problemi per socializzare, eccetera. Ecco, non so se ve lo ricordate, poi quando a un certo punto siamo diventati amici, lui era da solo in questa recinzione, non c'era la femmina, eccola qua, selvaggia, che io mi sono innamorato ormai di questa femmina, perché è proprio la tipologia di cani che io spesso vedo nelle transumanze. Mi immagino lei che fa 100 chilometri al giorno e manco se ne accorge. Me la immagino che quando c'ha fame, non come adesso che bruca un po' di tarassaco, una delle cose importantissime da tenere i cani sempre in giardino, H24 tutto l'anno, che possono godere in cambio di tutte le paturni che hanno i proprietari di ciò che li regala la natura. Cioè, immaginare di dare i croccantini ai cani e che lì dentro ci siano, solo perché lo scrivono sopra i sacchetti, tutto ciò che serve al cane, beh, è un po' strano. Invece la natura, in base alle stagioni, dà ciò che gli serve. Voi non avete idea quanto fieno si mangiano i cani da gregge d'inverno, ne hanno proprio bisogno, però è ovvio che se vivono in un posto dove c'è solo cemento, peggio ancora, in un cortile, o non hanno tutte queste cose, non possono godere. Però l'argomento di oggi era questo. Era che vi volevo far vedere la differenza di Akekemen. All'inizio lui viene da una storia di cane padronale, tenuto sempre in un box, ha avuto modo di socializzare specialmente con il padrone che l'ha cresciuto da piccolo, tirato fuori dal box e senza entrare nei dettagli, ha montato anche qualche volta, perché era un bel stallone, di conseguenza tutti volevano dei cuccioli di Akekemen, però tirato fuori anche per tutta una serie di scopi che non voglio entrare adesso nei dettagli. Non so se vi ricordate lui come era arrivato da me, adesso sta guarendo, eccetera. Però l'argomento non è questo. L'argomento è che se voi vi andate a vedere dei video precedenti, quando c'eravamo solo io e lui, lui poverino non aveva una femmina, non riusciva praticamente a interagire con un animale della sua specie. E allora se ve li andate a vedere veniva da me, si sedeva vicino, mi voleva saltare addosso, mi faceva le rincorse. Quindi io come proprietario avrei potuto essere il proprietario più gratificato del mondo. Stavo formando quel cazzo di binomio cane padrone che si è inventata la cinofilia moderna. Mai esistito nella storia della zoologia, mai esistito niente a meno che non fosse il padrone, proprietario, amico, chiamiamolo come vogliamo, che a un certo punto avesse scelto per lui. Adesso guardate il comportamento di Akekemen. Adesso viene a prendersi due coccole, ma ha questo interesse a marcare il territorio e certamente avere anche delle interazioni con me, come ha fatto prima la femmina che voi non avete visto, per il fatto che i cani sono comunque concorrenti al cibo e quindi hanno sempre bisogno di assicurarsi una prelazione sul cibo. Ma quando eravamo da soli, io e Akekemen, lui non aveva istinti di cane, perché poverino aveva vissuto veramente una dipendenza dall'uomo, per quanto sia un cane di una tipologia che sono poco dipendenti dall'uomo. Aveva un atteggiamento proprio di legame. Allora, due o tre giorni fa su un commento sono stato redarguito da una cinofila, non so neanche bene, cinofila educatrice, cinofila, non so chi sia, quanti clienti avessi, insomma perché adesso con un corsicino si diventa educatore. I quali mi ha detto, ma forse lei non ha ancora capito che i cani sono animali sociali. E' cazzo che l'ho capito, ma non li studio in tutto il mondo e li vedo quanto sono sociali. C'è solo un piccolo dettaglio, che i cani sono animali sociali, cioè in quanto loro sono fatti apposta per vivere nel loro modello sociale. e il loro modello sociale è il branco. Allora, nel momento in cui noi li previamo di questa possibilità e li costringiamo, fra virgolette, inventandoci tutte le balle del mondo, a vivere solo con noi, è ovvio, come faceva Iekam all'inizio, andatevi a vedere i filmati, mi correva, mi invitava, come si suol dire, al gioco, ma in realtà non è così, mi faceva tutte queste, mi riservava tutte queste attenzioni che riempono di soddisfazioni proprietari che credono nel binomio cane-padrone e che falsamente, perché in realtà non è così, li convincono, ma molti non sono responsabili di questa cosa, gliel'hanno semplicemente insegnato. Io dico, però se a un certo punto qualcuno ti insegna altro, e a un bel momento bisogna fare dei confronti, bisogna fare dei ragionamenti. Quindi, quando un qualsiasi proprietario ha un cane che corre, che va avanti e indietro, che si abbassa, che non parliamo né quando riportano la pallina, queste cose pazzesche, ma sembra che dimostri, per chi di zoologia non ha studiato niente, che voglia interagire, che non ci sia nulla di meglio che l'uomo, questo gli basta per avere una pseudoconvinzione che il cane è felice. Allora il discorso è questo. Era felice prima a Kiekemen, che mi saltava addosso, che correva, che faceva, adesso io ho detto a Kiekemen, lui ormai sa benissimo che io lo chiamo così, è vero, che allora non si voleva più staccare da me, oppure era più felice adesso che c'è la sua femmina. Poi come vi ho detto prima, io in tasca ho dei pezzi di pane o qualcosa, loro sono sempre interessati al cibo, e sono concorrenti al cibo, nel modo più assoluto. Però se io andassi a vedere la differenza fra il comportamento che aveva prima Kiekemen, intanto la capretta qua continua sempre a brucare, e quello di adesso, io potrei quasi essere andato in paranoia pensando che il cane in qualche modo adesso non mi voglia più bene, adesso sia triste, ma se noi ci pensiamo un momento, com'è possibile che un cane sia più triste adesso che c'è una femmina che non va ancora in calore, ma lui se ne è già reso ben conto di come è cambiata la sua vita. All'inizio hanno avuto tutte le sue discussioni, adesso hanno tutte le sue interazioni, vanno d'accordo, fanno in poche parole proprio la coppia. Ecco io vi volevo solo far vedere, visto che avete seguito filmato dopo filmato, questo cambiamento. Prima tiravo fuori a Kiekemen e mi voleva saltare addosso, adesso pensa a marcare il territorio, pensa a gestire gli eventuali rapporti della sua femmina con altri maschi confinanti, ad esempio gli dice un cucciolone, ma non lo preoccupa, perché non potrebbe mai fare ovviamente niente, ma potrei dire in gergo si è calmato, tanti dicono ma il mio cane ha bisogno di calmarsi, e il tuo cane ha bisogno di calmarsi perché è stressato, perché è angosciato, perché non ha niente, dice no ma il mio cane è a me, ok, ma sta falsa dichiarazione che siccome i cani sono animali sociali, allora gli piace socializzare e di conseguenza socializzano con tutti gli uomini, va bene, ma lì si parte dai principi completamente sbagliati, volutamente sbagliati, cioè io ho visto dei cani, ne ho osservati migliaia da soli, però prima o poi cercavano sempre, ho trovato tra l'altro un video che ho fatto nel Goa due anni fa che magari lo pubblico una di queste sere, qual è il percorso che deve fare un cane per entrare in un branco, a volte prende morsicate, però a un certo punto dopo due o tre mesi si fa accettare, ecco quello è il motivo perché il cane è un animale sociale, immaginare che un animale possa preferire un altro animale di un'altra specie e che sarebbe l'uomo e perché si vuole proprio a tutti i costi cantarsela e suonarsela come ci fa comodo. Allora, ve la volevo far vedere questa cosa perché non è che mi ha meravigliato, perché io le vedo tutti i giorni qua nel mio allevamento, io di là di studiare sui libri mi passano in mano centinaia di cani all'anno, me ne passano molti anche di quelli che magari, non so, i proprietari non li possono più tenere e li portano da me e io vedo come il cane massimo ogni un giorno, a volte in due ore, a volte in mezz'ora, è entusiasta di questa cosa, di aver lasciato il proprietario, ma quella è una cosa normale perché nel momento in cui capisce che oltre ad avere un proprietario datore di cibo c'ha sempre il cibo, c'ha la possibilità della sopravvivenza e nel frattempo c'ha anche la possibilità di convivere con quello che può essere un altro cane di sesso opposto, vabbè, è ovvio che non tornerebbe mai più indietro. Quindi al di là di falsi miti, al di là di tutte le cose che magari molte persone che dovrebbero andare un po' in analisi a risolversi dei suoi problemi, li vogliono risolvere con i cani e poi esiste la cinofilia che è parentestretta della zoologia, della biologia, dell'etologia e che non si può far finta che non esiste solo perché noi adesso abbiamo deciso di fare il business sul cane, io sono innamorato di quella femmina. E quindi niente, vi ho fatto questa diretta improvvisa per parlarvi di questo argomento. È assolutamente vero che il cane è un animale sociale, ma è assolutamente vero che il cane deve stare con altri cani. È vero che i cani ci prestano meno attenzioni quando hanno altri cani, meno male, dico questo, tant'è che io lei selvaggia non l'ho chiamata selvaggia apposta, per caso voglio dire e non a caso, ho voluto proprio accopiarla con Aki Akemen, perché se è vero che l'ambiente, come dire, modifica la genetica, e vabbè l'ambiente in cui è nato Aki Akemen non è proprio stato dei più felici, e quindi è una madre che invece era già un po' selvatica di suo, e poi guardate, lei come femmina non mi degna neanche di uno sguardo, ecco però questa autonomia è quello che mi rassicura che loro vivendo insieme senza dubbi sono felici, sono molto gratificati. E questo si collega a un discorso ben preciso, sul fatto che quando sono liberi i cani, non sono chiusi come anche da meni una recinzione possono scegliere, ma non sicuramente, anzi probabilmente Aki Akemen non avrebbe solo selvaggia, avrebbe molte femmine, girerebbe, marcherebbe il territorio come lui sta facendo adesso, e selvaggia girerebbe chissà quanti chilometri quadrati, perché si cercherebbe maschi, a volte più maschi, le mestruazioni di tutti i mammiferi sono fatte apposta per lasciare traccia che il cane sta per andando in calore, quindi che la femmina attira tutti i maschi, e quindi più maschi la copriranno e meglio è. E so benissimo che questi discorsi, magari a persone, a donne che non hanno maschi, a maschi che non hanno fidanzate, li scandalizza, perché o il cane maschio, o il cane femmina diventano i loro compagni di vita, ma quella è una violenza, per quella che è la natura del cane. Noi dobbiamo amare i cani, tenere i cani, ma tenere i cani in base a ciò che loro desiderano, cosa si cercherebbero in natura. Adesso io, cliccando in un posto, tipo qua, ecco compaio io, molto meno interessante dei cani, però ve li lascio in sfondo. Questo per dire che ci sono persone, anche i miei clienti, persone che, quelli che hanno studiato con me non lo fanno, ma quelli che mi seguono, che dicono, vorrebbero dei consigli a un certo punto, vedi, c'è cinque anni che la seguo, e mi permetto di chiedergli un consiglio. No, ma io il consiglio non te lo do, uno perché detesto i consigli, con i consigli non si risolve niente. bisogna studiare, puoi far tanta pratica, e puoi capire quali sono le strade da raggiungere. Però ci sono molte persone che, non so, hanno un maschio e ogni tanto mi contattano e dicono, prima o poi prenderò la femmina. No, no, ma tu la femmina non prenderla da me, io vivo lo stesso se tu non prendi una femmina da me. Cercala dove vuoi, cerca una metizia, cerca una femmina in canile, che non sia però sterilizzata, cerca una femmina di qualsiasi razza, piuttosto di niente io perseguo sempre la strada, piuttosto di niente è meglio piuttosto. Ma è una cosa urgente, è una cosa che devi fare domani, è una cosa che dovevi già fare ieri. Ci sono persone che, magari hanno avuto i miei cani, poi si sono perse un po', perché fin quando io facevo i corsi, fin quando gli rinfrescavo la memoria di cosa sono i cani, al di là delle razze, delle tipologie, dell'utilizzo che facevamo, e vabbè, non avrebbero mai lasciato un maschio da solo. E muore il cane, e mi dicono adesso, ci sentiamo la prossima settimana, che mettiamo una femmina. E io dopo due o tre mesi, dico vabbè, per tanti motivi, un amico gliel'ha avrà data, o qualsiasi altra soluzione, e non hanno preso la femmina da me, ma non è così grave. No, poi scopro, perché mi richiamano dopo cinque o sei mesi, giustificandosi con me, scusandosi con me, non scusandosi col cane, hanno il maschio, che è sempre vissuto con una femmina, poi magari muore la femmina, o viceversa, dopo sei mesi mi chiamano, scusa, ho avuto tante cose da fare, adesso ci dobbiamo poi parlare per la femmina. E a me mi cadono le balle, perché veramente, la cinofilia è un qualcosa, ormai di astratto, legato a sacchi di crocchette, legati a cosa deve fare il cane per noi. Ogni tanto ci sono dei miei amici, che non necessariamente, anzi quasi mai, sono dei miei studenti. Di muore il cane, iniziano a inondare Facebook, di tutti i messaggi del mondo, di lacrime, di fai questo ponte divino, di arcobaleno, di riposa in pace, tutti mettono riposo in pace, perché che sforzo ci vuole a fare quello? Ormai siamo talmente falsi, che queste cose qua ci vengono, si può dire spontanee. Altri fanno video, fanno composizioni, fanno degli scritti. Il 99% delle cose che le persone scrive è sempre loro cosa hanno tratto dal cane. È difficile che io legga dei pentimenti che hanno avuto per ciò che non gli hanno dato al cane, perché sono stati educati che, con un po' di carezze, un po' di mangime, loro hanno bella posto. E quindi è incredibile come piangono i cani per ciò che gli manca dal cane, non per ciò che non gli hanno dato in vita. E niente, di conseguenza vi volevo, vi ho voluto fare questa diretta per dirvi che è assolutamente vero che il cane è un animale sociale. Sono d'accordo con tutti questi educatori cinofili che a volte quando io dico vanno messi in cortile, loro si preoccupano di tutto cosa gli potrebbe succedere al cane, ma è accaduto a nessuno dei miei cani, neanche dei clienti. Si preoccupano che il cane abbia freddo, si preoccupano di tutto, ma la cosa più ridicola è quando dicono ma come fai a lasciare l'incortile? Il cane ha bisogno della presenza umana. Cazzo, veramente? Ma è possibile che l'uomo deve sempre mettersi in tutto quello che è la natura. Se c'è una cosa che non ha bisogno al cane, basta mettergli un altro cane della presenza umana. Certo, non potendosi andare a recuperare le riserve di cibo, noi abbiamo il dovere di dargliele, anzi, gli dobbiamo dare più nutrienti possibili, più vicine a ciò che lui si troverebbe in natura, non sicuramente i croccantini. Cani non hanno mai trovato i croccantini in natura. Infatti avete visto, non selvaggia come brucava l'erba al tarassaco, ogni tanto ci sono dei cani che se ne mangiano una ventina di questi fiori. Specialmente vorrei sollecitare tutte le persone che hanno ancora il cane da solo adesso, che hanno il maschio da solo, la femmina da sola, dipendentemente da quelli che io conosco, che mi lasciano sempre di stucco, che dopo mesi sono loro che mi contattano a dire scusa perché io ho avuto altre cose da fare. Ma come fate a non sentire questa urgenza? pensate se foste voi a essere da soli, come avete gli occhi da non vedere un cane che ogni tanto poi qualcuno mi chiama e dice ah, devo venire a prendere una femmina perché lui è proprio depresso. Ma grandissima testa di cazzo, se non ci fosse la recinzione e al cane fosse morta la femmina, lo stesso giorno, lo stesso giorno, il cane avrebbe iniziato a girare sul territorio perché la prima cosa che cerca un cane, essendo un animale sociale, ma non è l'uomo. Quindi togliamoci tutta questa merda che hanno cercato di metterci nella testa per fare del cane un business. Cerchiamo di studiare, non necessariamente da me, zoologia, etologia. C'è queste scienze che hanno poi creato questa speculazione a questo punto che si può chiamare la cinofilia. Ma io quando ho studiato i lupi, lo faccio tuttora, ho studiato i cani randaggi, l'ho fatto con docenti universitari. Quindi chi vuole andarsi a cercare la verità sui cani, ma la trova. Ve l'ho detto mille volte, non volete viaggiare, compratevi il libro Docs. Non sono più io a dirvi queste cose dei cani, ma che le dovete sapere. Comprate questo libro Docs dei coniugi complici, scusate se sono solo i più famosi biologi al mondo. Uno adesso è morto, hanno dedicato la loro vita a studiare i cani. Ma come si fa a far finta che non esistano queste cose? Quindi vi volevo fare questa diretta solo per sensibilizzarvi un po'. Avete tutte le vostre cose, si è rotta la macchina, dovete cambiarla cancellata, ci sono i moratori, prima c'era la pandemia, poi siete concentrati su ristrutturare la casa 110, adesso c'è la guerra, poi dovete andare in vacanza, adesso avete fatto il ponte di Pasqua, di Natale, del 25 aprile, figlio deve fare la comunione, si sposa la nipote, tutto, succede tutto. Cazzo, ma il vostro cane da solo vive da merda. E il motivo che a volte viene da voi e sembra che sia festoso, no? E festoso come lo era a Kiekemen, voi avete visto, adesso ve lo voglio far vedere. Adesso che è cambiata la situazione, ecco, io sono qua e loro sono laggiù. Ecco, questo ve l'ho fatta apposta per farvi vedere in pratica come sono abituato io sia a studiare la mia cinofilia sia a insegnare la mia cinofilia. In pratica. Adesso lei viene qui, ciao data. Brava, brava. E allora guardate lui come viene, perché ovviamente c'è anche la concorrenza al cibo, però gli da prima una controllata a lei e dice, cazzo, sempre la femmina di prima o meno? E' un po' che sono così, lei non va in calore, ma a lui non le sembra vero finalmente di aver trovato una femmina tutta sua. A me non sembra vero di essere riuscito in questo mio progetto di poterlo recuperare e farlo vivere con una femmina come lui meritava. Tanto, eccolo qua. Saluta a tutti che gliele abbiamo di nuovo dette giuste stavolta. Spero che si facciano furbi. Ciao ragazzi, a presto e vi auguro a tutti buona giornata.